Entra anche tu nel box di Crono GP per scoprire in modo completamente nuovo le bonoposto di Formula 1, i loro segreti, la tecnica con elementi 3D, le dichiarazioni dei piloti. Tutte le settimane in presa diretta su Crono GP. Crono GP Mercoledì alle 19.00 7 Gold Entra anche tu nel box di Crono GP per scoprire in modo completamente nuovo le bonoposto di Formula 1, i loro segreti, la tecnica con elementi 3D, le dichiarazioni dei piloti. Tutte le settimane in presa diretta su Crono GP. Crono GP Domani alle 19.00 7 Gold Per gli amanti del golf è disponibile il Golf Club Villa Carolina, Con due percorsi immersi tra le colline per un totale di 36 buche. E per lo shopping, a pochi chilometri, si trova il Serravalle Designer Outlet. Le terre magiche vi aspettano per scoprire.